Un caro saluto a Desi e Matteo, Elena e Filippo, Simona e Fabrizio, Alessia e Andrea, Denise e Michele. Sono i ragazzi che si stanno preparando al matrimonio nelle nostre parrocchie bovesane. Stavano portando avanti il cammino di preparazione nella nostra parrocchia. Ora è stato interrotto, sospeso questo cammino, ma continuano a prepararsi al loro matrimonio. E allora mi fa molto piacere potervi parlare, poter stare in contatto con voi e attraverso di voi anche con tutte le coppie, coloro che si preparano al matrimonio, coloro che vivono insieme, le famiglie, gli sposi. Questo momento è di difficoltà perché bisogna stare insieme, a volte è difficile stare insieme e anche un momento di preoccupazioni. Allora volevo accompagnare questo momento con un messaggio tratto dall'esperienza di due fidanzati, Titrich Bonhoeffer e Maria von Wedemeyer. Bonhoeffer è stato un pastore protestante, è stato ucciso in un campo di concentramento nel 1945 e pochi anni prima si era fidanzato con una ragazza, Maria von Wedemeyer, ma dopo pochi mesi dal loro fidanzamento è stato incarcerato, quindi non hanno potuto raggiungere il matrimonio, nemmeno avere contatto tra di loro, hanno dovuto vivere nella distanza, nell'isolamento. E durante questo periodo Titrich e Maria si sono scambiate delle lettere. Vi leggo una lettera scritta da Titrich nella sua cella in un carcere sotterraneo a Berlino, il 19 dicembre 1944. Mia carissima Maria, sono così felice di poterti scrivere per Natale e poter salutare attraverso te anche i genitori e i miei fratelli e ringraziarvi. Saranno giorni molto silenziosi nelle nostre case, ma ho sperimentato tante volte che quanto più silenzioso diventa l'ambiente intorno a me, tanto più chiaramente avverto il legame che mi unisce a voi. È come se nella solitudine l'anima sviluppasse dei sensi che nella vita quotidiana non conosciamo. Così non mi sono mai sentito solo e abbandonato, nemmeno per un istante. Tu, i genitori, voi tutti, gli amici e gli allievi al fronte mi siete stati sempre presenti. Le vostre preghiere e i vostri buoni pensieri, le parole della Bibbia, i discorsi di tanto tempo fa, la musica, i libri, prendono vita in realtà come mai prima d'ora. È un grande regno invisibile in cui si vive e della cui realtà non si dubita. La vecchia canzone d'infanzia sugli angeli dice Due che mi addormentino, due che mi sveglino. Ma questo essere protetti mattino e sera da invisibili potenze benigne è qualcosa di cui noi adulti abbiamo bisogno, non meno dei bambini. Dunque non devi pensare che io sia infelice. E poi che cosa significa felice o infelice? Dipende così poco dalle circostanze, ma soltanto da quello che avviene nell'uomo. Io sono ogni giorno contento di avere te, voi e ciò che mi rende felice. Sono quasi due anni che ci aspettiamo, carissima Maria. Non scoraggiarti. Sono contento che tu stia dai genitori. Saluta tanto da parte mia, la tua mamma e tutta la famiglia. Ecco ancora un paio di versi che mi sono venuti in mente nelle ultime sere. Sono il saluto natalizio per te, i genitori e i fratelli. Circondato fedelmente e tacitamente da benigne potenze, meravigliosamente protetto e consolato, voglio questi giorni vivere con voi e con voi entrare nel nuovo anno. Il vecchio vuole ancora tormentare i nostri cuori, ancora ci opprime il grave peso di brutti giorni. O Signore, dona alle nostre anime impaurite la salvezza per la quale ci hai creato. E tu ci porgi il pesante calice amaro della sofferenza, ripieno fino all'orlo. E così lo prendiamo, grati, senza tremare dalla tua buona e amata mano. E tuttavia ancora ci vuoi donare gioia per questo mondo e lo splendore del suo sole. E allora vogliamo ricordare ciò che è passato e così appartiene a te la nostra intera vita. Fa ardere oggi le calde e luminose candele che hai portato nella nostra oscurità. Riconduci, se è possibile, ancora insieme. Noi lo sappiamo, la tua luce arde nella notte. Quando il silenzio profondo scende intorno a noi, facci udire quel suono pieno del mondo che invisibile si estende intorno a noi, l'alto canto di lode di tutti i tuoi figli. Da potenze benigne, meravigliosamente soccorsi, attendiamo consolati ogni futuro evento. Dio è con noi alla sera e al mattino e certissimamente in ogni nuovo giorno. Ricevi insieme ai genitori e ai miei fratelli il mio saluto con grande amore e gratitudine. Ti abbraccia il tuo Dietrich. E questo è anche il saluto, l'augurio per voi, per tutte le coppie, per tutte le famiglie, per tutti gli sposi. Un caro saluto e tanti auguri.